Marco, allora per Canale 25, una domanda sul Superbike, terzo posto o quarto? Marco Melandri, giusto? No, ah Marco Melandri è lui, tu sei? Sì, è il quinto lì. Ah il quinto lì, invece è arrivato terzo, giusto? Il quinto o il secondo? Il primo? No, il Superbike, 2013. Tu sei campione del mondo? Ah no no no, terzo. 2013, sì sì. In italiano puoi parlare? Sì, va bene, va bene. Allora, una domanda sempre sui Superbike, sulla sicurezza, sui Superbike, come è la situazione sulla sicurezza delle moto, perché c'è stato molto anche il Superbike, che forse è una nota di oggi, e poi anche del motodense. Ok, ok. Quindi, quinto lì? Va bene. Com'è il nome? Quinto lì? Sì sì. E di nome? Silvano. Silvano Quinto lì, che corri con la briglia in Superbike. Sì. Sì, ha detto quanto si è arrivato in classifica? L'anno scorso o terzo? Terzo. Ok. Allora, buongiorno a tutti, siamo al Motodays con Guintoli, è arrivato terzo nel mondiale Superbike 2013, e chiediamo a Guintoli innanzitutto un primo impatto, una prima impressione sul Motodays qui a Roma. Qui mi piace sempre, sono venuto l'anno scorso anche, è sempre buono di venire qui e di fare un meeting con tutti i tifosi dell'Aprilia, è sempre interessante di venire qui anche per vedere tutti i nuovi modelli, nuovi colori, mi piace. E i nuovi prodotti, nuove moto. Per l'anno prossimo in Superbike cosa prevedi? L'Aprilia, tu correrai ancora il mondiale 2014 Superbike, sarai sempre pilota del Superbike 2014 l'anno prossimo. E cosa prevedi? Cosa prevedi di essere competitivo, di poter vincere il titolo mondiale? Sì, sì, perché il team Aprilia, l'Aprilia Racing è una squadra, è una moto molto competitiva, sì, speriamo di vincere come per il 2013 il titolo con settori, ma anche piloti. Anche piloti. Per quanto riguarda la sicurezza nelle corse, purtroppo è una domanda che mi sento di farti perché anche quest'anno ci sono stati dei morti e tra l'altro mi sembra in Russia, se non sbaglio, durante la pioggia un italiano nella gara prima della Superbike, quella ufficiale, e poi c'è stata la morte anche di un altro pilota italiano qui in Italia, proprio nel giorno della memoria di SIC, di Simoncelli. Com'è la situazione sicurezza nella Superbike dal tuo punto di vista, dal punto di vista del pilota? La gara di moto è sempre dangerosa, questo è un punto importante, dopo anni dopo anni, gara dopo gara, c'è tanto lavoro che è fatto per fare una sicurezza meglio a meglio, ma c'è sempre rischio. Il rischio. Con la pioggia aumenta il rischio, con la pioggia o... Sì, con la pioggia aumenta l'improbabilità, no? Sì. Comunque il livello di sicurezza si sta alzando, diciamo, se lo possiamo dire. Sì, sempre, sempre. Ti ringraziamo, allora in bocca al lupo per il prossimo anno. Grazie. Buon 2014. Ciao, grazie. Stoppa un attimo.